l'ultima opera che invece voglio oggi adesso presentare è il mondo del principe splendente di arivan morris arivan morris è stato uno studioso anche lui molto importante purtroppo morto prematuramente a soli 50 anni una persona che si è formata in inghilterra prima prima in america laureandosi ad harvard poi il dottorato preso alla soas di londra studiando tra l'altro con come va con welly e e e poi appunto tornando in america si fai per arivan morris è stato molto attivo nel campo della ricerca nella sua pur breve vita è stato autore di tantissimi saggi articoli e anche lui un appassionato traduttore traducendo sia opere di letteratura del novecento tra le quali possiamo ricordare autori quale nishima yuki o nishima o nishima yuki o oppure ibusa masuji eccetera eccetera ma poi anche soprattutto di letteratura classica del periodo heian e anche del periodo edo quindi del periodo heia possiamo ricordare il sarashina nikki il seishona il guanciale macurano soci di seishonagon e del periodo edo invece l'opera di ihara saikaku vita di una donna amorosa diciamo che ivan morris è stato allo stesso tempo un grande studioso di storia del novecento ma anche della storia del giappone antico e di che di letteratura e l'opera il mondo del principe splendente riflette a pieno questa sua doppia natura quindi traduttore letterato e storico è una delle opere alla sud gianji monogatari e tutti quanti conosciamo e su cui quindi non dirò nulla sono state scritte nel corso dei decenni tantissime opere tantissime opere che hanno analizzato l'opera sotto i più diversi punti di vista però in genere si tratta di opere diciamo di specialisti fatti da accademici per accademici o per studenti quindi non di grande diffusione il pregio di questo libro il mondo del principe splendente è che è un'opera in cui l'autore è riuscito a trovare un equilibrio difficilmente rintracciabile in altre opere tra la dimensione accademica e la divulgazione accurata al grande pubblico quindi si affianca si divide è anche questa un'opera molto grande perché a vediamo quante pagine quattrocento venti pagine ed è si divide in dieci capitoli quindi abbiamo prima un'introduzione storica sul periodo heian l'ambiente di corte una esposizione molto dettagliata sulla politica e sulla società del tempo soffermandosi appunto su imperatori la famiglia Fujiwara la società l'amministrazione dello stato l'economia le persone della provincia e le classi inferiori e poi dopo questa prima parte introduttiva ma appunto ripeto introduttiva è un termine forse che non rende giustizia di presentazione in maniera diciamo non accademica ma estremamente puntuale corretta della società e della politica del tempo l'autore si sofferma alternando brani dal genji monogatari ma anche da tantissime altre opere letterarie sugli aspetti che riguardano la religione le superstizioni le persone di qualità quindi gli aristocratici e i loro gusti della loro vita il culto della bellezza imprescindibile al tempo le donne heian i rapporti con gli uomini e poi dedicando gli ultimi due capitoli del libro alla figura dell'autrice del genji monogatari quindi una saki shikibu e alla presentazione di alcuni aspetti importantissimi per la comprensione della della struttura dell'opera quindi un capitolo di analisi letteraria del genji monogatari a questa parte diciamo di studio seguono poi ben sei appendici molto importante per lo studioso ma anche per il lettore curioso di cultura giapponese che riguardano i periodi storici in estremo oriente giappone delle note aggiuntive sul decimo secolo in giappone la storia del genji è completa quindi ipotesi su la completezza o meno di questa grande opera della letteratura giapponese e poi seguono delle tavole genealogiche murasaki sulla narrativa che poi un glossario finale come welly prima e come ma rega per il kogiki è un'opera che leggendo la quale appunto si capisce la profondità lo spessore dell'autore la quantità di informazioni letture fatte per poter acquisire appunto le conoscenze in base alla quale puoi scrivere un'opera del genere anche qui si fondono nozioni formazioni di lingua di letteratura di storia di società della del giappone del periodo reian ovviamente perché è vero il punto di partenza e principe del dell'autore è quello di rappresentare il giappone del periodo reian così come traspare dalle pagine del genji monogatari ma non perde mai di vista la visione diciamo dello storico vero e proprio quindi non solo la società giapponese come viene fuori traspare dalla lettura del genji ma anche la visione di uno storico quindi l'affiancare queste informazioni letterarie a informazioni invece desumibili diciamo da altri studi e e questa sua passione appunto per la letteratura e la storia la cultura del periodo che ian vengono diciamo quindi il motivo scatenante diciamo che ha indotto a eva morris a scrivere a scrivere quest'opera vengono riportate da lui stesso all'interno del libro nel capitolo sesto per la precisione le persone di qualità e la loro vita di cui adesso vi leggo l'incipit se un occidentale discretamente colto venisse chiesto di indicare gli aspetti salienti della tradizione giapponese il suo elenco potrebbe essere questo nella cultura il dramma no e il dramma kabuki la poesia haiku le stampe ukiyo e la musica shamisen e altre varie manifestazioni nella struttura sociale il samurai con le sue spade e la geisha nelle idee il pensiero zen in materia di esperienza umana e l'importanza che si attribuisce alla comprensione intuitiva della verità e dell'illuminazione il dilemma tra dovere affetti umani atteggiamento estremamente condiscendente verso il suicidio nella casa le stuoie di paglie grandi bagni in costi in comune le nicchie per appendere vi roto vi illustrati nell'alimentazione il pesce crudo e la salsa di soia eccetera eccetera l'elenco sarebbe esatto no a nota a evan morris però nessuna di queste cose era presente nel mondo di murasaki e lei stessa l'avrebbe considerata del tutto estraneo quanto lo sono oggi per noi occidentali quindi dalla lettura di questo brano è evidente che proprio il motivo che indusse a evan morris a scrivere quest'opera era sicuramente per comunicare per diffondere non solo agli specialisti ma anche alle pubblico curioso un aspetto della società del periodo che non rientrava assolutamente nei diciamo nel cliché che rappresentavano il giappone all'epoca ricordo che l'opera originale risale a 64 quindi nel 64 del giappone si sapevano certe cose ma tutte queste cose che erano di comune diciamo condivisione della del pubblico della gente comune assolutamente il mondo la società del periodo che non ne facevano parte e quindi questo perfetto questo bellissimo libro di evan morris nasce proprio con l'intento specifico di arricchire le conoscenze che le persone non specialiste potevano avere della cultura del periodo che gli anni concludo mia qui questa mia presentazione spesso spero di essere stato chiaro di avervi diciamo così solleticato in qualche modo verso queste tre opere e quindi vi saluto augurandovi una buona lettura grazie tanto per l'attenzione